Salve a tutti. 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 nord, tra il IX e l'VIII secolo a.C., ma queste due fonti finirono per fondersi in molti punti, dando vita alla fonte lunga e la tradizione deuteronomista risalirebbe alla riforma di Giosia, nel VI secolo fino al periodo dell'esilio babilonese, si chiama così perché ad essa risale quasi tutto il Deuteronomio e fondamentalmente ha contribuito a produrre questo specifico libro. La tradizione sacerdotale invece è del VI secolo, durante il periodo dell'esilio, si chiama così anche perché grossomodo è quella che ha prodotto il Levitico, e quasi ed esclusivamente esso. Infine nel VI secolo ci sarebbe stata la redazione finale delle quattro fonti che avrebbe portato al Pentateuco per come lo conosciamo noi, ed è plausibile che siano stati i sacerdoti stessi a fare questa redazione finale. Il contributo dei redattori è ricordato come R, vi metto un'immagine che dovrebbe rappresentare il contributo della fonte lunga, P, e R per Genesi, Esodo, Levitico e Numeri. Grosso modo il Deuteronomio è un prodotto dei Deuteronomisti. Dall'immagine si vede che grossomodo la Genesi è frutto del contributo di queste tre fonti e dei redattori, anche se fondamentalmente io vedo prevalere il rosso, che sta per il lunga e poi E, e secondariamente il blu, che sta per P e nero, che sta per R e Esodo. A quanto pare prevalentemente un prodotto di E, P, e verso la fine è fondamentalmente prodotto di P. Il Levitico naturalmente al 99% è prodotto da P, perché è il libro dei sacerdoti per eccellenza. Anche Numeri è fondamentalmente il prodotto di P e secondariamente di E e in parte anche di R e marginalmente di lunga ma la tesi oggi non è più accettata così come fu formulata, sembra che le cose siano molto molto più complesse di così. Quelle fonti a loro volta non derivano da un solo autore, ovviamente, ma sono delle tradizioni orali variegate che nei secoli furono messe per iscritto in modo frammentato e non unitario. Questa tesi cerca di spiegare perché nella Bibbia abbiamo due diversi racconti della creazione. Il primo è la prima sacerdotale, da Genesi 1 a 2,3. Il secondo è javista, ma è più antico, risale 400 anni prima, che va da Genesi 2,4 a 2 e 24, cioè fino alla fine del secondo capitolo. Oppure si cerca di spiegare il perché c'è la formulazione della legge sia nell'Esodo e sia nel Deuteronomio. Oppure, cosa che dovrebbe essere di interesse per i TDG, perché talvolta si usa il nome Yahweh e perché in altri casi si usa Elohim. È un argomento molto complesso, gli storici stanno ancora dibattendo su questo argomento. Ci sarebbero moltissime altre cose da dire, ma per ora posso concludere che se le cose stanno così, non solo è impossibile che Mosè abbia scritto il Pentateuco, ma è anche impossibile che se la Bibbia fosse ispirata da Dio lo sarebbe ispirata lettera per lettera, come un dettato, o come se Dio avesse guidato direttamente la mano dell'autore, visto che di autori forse ne abbiamo avuti migliaia, e questo avrebbe delle conseguenze nell'esegesi, che certamente non può essere letteralista, ma questo è un discorso a parte. Se siete arrivati fino a questo punto vi ringrazio e vi saluto. Per ora è tutto, alla prossima!